Ragazzi, siamo a Spiazzi, il generale ci ha abbandonato, è andato a farsi i cazzi suoi per quella fottuta gara di enduro Mi tocca fare la voce narrante perché lui, come sapete, non parla E niente, prima run, accendiamo il cervello, ci sciogliamo un po' Ci vediamo giù, vuoi andare avanti tu? Vado avanti io? Easy eh? Boia se ci fanno Vado avanti io? E' un poltiglione unico Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Grazie a tutti. Porca boia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.